Media e stereotipi di genere, cambiare il linguaggio per cambiare la cultura. La sfida viene lanciata in un pubblico convegno da Pina Debi, vice direttrice del Tg La Sette, intervenuta al convegno promosso dalla consigliera di parità della provincia di Barletta Andrea Trani, Stefania Campanile. Combattere gli stereotipi si può e si deve, è una battaglia ma soprattutto una rivoluzione culturale. Ne è convinta la vice direttrice del Tg La Sette, Pina Debi, intervenuta ad Andrea, al convegno Media e stereotipi di genere, promosso dalla consigliera di parità della provincia di Barletta Andrea Trani, Stefania Campanile. Al centro del dibattito dunque il linguaggio, la cultura e la comunicazione che deve uscire appunto dagli stereotipi di genere ed è questa una necessità che investe l'informazione, la pubblicità e i media nella loro totalità. Lo slogan che accompagna questa iniziativa stasera dice non credere a ciò che ti dicono. Quello che ci propinano i media potrebbe correre appunto questo rischio, cioè che non corrisponde alla realtà. Ai messi siamo purtroppo vittime di stereotipi che sono stereotipi culturali, dovremmo iniziare a cambiare questo tipo di tendenza. Quante volte leggete di fronte ad esempio a un delitto, a un femminicidio, delitto passionale? Ecco, questo è uno slogan che andrebbe abolito. Quante volte vedete che si cerca di indagare nella vita della donna uccisa come se fosse colpevole quasi a giustificare il marito? Tutto questo deve cambiare perché l'identità di una persona che viene uccisa prescinde dalla passione. Parlare di delitto passionale significa quasi giustificare un delitto come se l'amore fosse una ragione di un uccisione, di un assassino. Non è così. Quindi dobbiamo cambiare cultura, dobbiamo cambiare linguaggio, soprattutto noi giornalisti. E badate bene che è così radicato in noi questa modalità, è così radicata in noi che molto spesso anche noi che ci poniamo il problema non riusciamo a rendercene conto. Ecco allora che parliamo un attimo di follia quando magari quel delitto è stato pensato per tantissimo tempo. Dobbiamo cominciare a cambiare, dobbiamo cominciare a insegnare i nostri figli a cambiare. Se ci si sofferma un attimo ad analizzare quelle che sono la maggior parte delle campagne pubblicitari in atto, ci si rende conto con una facilità incredibile di come i media si servono dello stereotipo di genere per indurre l'utente al consumo. In questo modo però finendo poi per rappresentare una immagine degli uomini e delle donne che non corrisponde poi a quella reale, a quella effettiva, finendo poi per ingabbiare ciascuno all'interno del proprio ruolo e in qualche modo sfavorendo quella che poi è l'affermazione sociale della donna. Che tutti coloro che operano nel campo di media siano titolari di quasi una sorta di responsabilità sociale, che quindi siano tenuti a fornire un'immagine adeguata, equilibrata e veritiera di quella che poi è la situazione degli uomini e delle donne. Di qui la scelta di inserire appunto il programma nella programmazione provinciale in materia di prevenzione e di contrasto ai fenomeni sia della violenza di genere, sia della violenza di genere in generale, quindi sulle donne e sui minori.